È la settimana dell'Expo, Coldiretti non vuole farsi trovare in preparata, intanto è stato fatto uno studio per capire che cosa faranno i turisti, specialmente stranieri, quando non saranno all'Expo. Proprio da questa indagine abbiamo rilevato quelli che possono essere i prodotti agroalimentari che saranno oggetto di souvenir e di ricordo per i milioni di turisti che verranno anche in Toscana. Ne abbiamo tantissimi, dall'olio IGP Toscana, dalla finocchiona anche questa IGP, abbiamo anche il vino Chianti o il Brunello, cioè tutte eccellenze del nostro territorio che verranno portate via dai turisti durante questa manifestazione. Gli stand sono tutti pronti? Gli stand sono tutti pronti, noi inaugureremo il primo, quindi non mancherà lo stand di Coldiretti alla prima giornata di Expo. Una mappa del gusto che può essere accessibile anche tramite una app, un'applicazione. Guardi, noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo visto che il 70% dei visitatori che vengono all'Expo passeranno il loro tempo sul territorio, quindi nelle nostre città ma anche nelle nostre campagne. E quindi abbiamo fatto un'app, Farmer4U, per dargli l'opportunità di poter, con un click, scegliere il posto dove andare a dormire, dove andare a mangiare, il prodotto tipico che vogliono comprare o riportare nel loro paese di origine. È un'app già scaricabile? Già scaricabile, è un'app che per il primo maggio sarà a disposizione di tutti i cittadini e i visitatori dell'Expo.